Questa azienda è la mia vita, è il mio cuore, la mia anima, la mia passione. Le mie giornate sono intensamente qui. La Bellotta è sempre stata un'azienda cerealicolo-zootecnica. Abbiamo provato culture di ogni genere, dal girasole alla canapa, costruendo dei capannoni per il bestiame e per l'allevamento da carne. Poi abbiamo smesso e da quando poi nel 2010 è arrivato il biogas, tutte le culture agricole che erano destinate al mercato sono diventate matrici in ingresso per il biogas. Quindi noi siamo una classica azienda che produceva per il mercato agroalimentare, che invece è diventata oggi a tutti gli effetti un'azienda agroenergetica. New Holland Agricultural è il brand agricolo del gruppo CNH Industria. 125 anni fa Abe Zivelman, uno dei nostri padri fondatori, produsse la prima macchina agricola e da lì New Holland si è espansa in tutte le parti del mondo, tant'è che oggi ci possiamo posizionare sicuramente a livello di globale su tutti i mercati, con una full liner completa. Ci piace essere vicini ai agricoltori e ci piace essere percepiti dal nostro cliente, più che un fornitore, un partner. L'obiettivo di lungo termine che noi abbiamo sempre avuto alla Bellotta è quella di diventare veramente un Energy Independent Farm. Ancora l'unica energia che ci arriva da fonti non rinnovabili è il gasolio che noi bruciamo nel nostro parco trattore. Oggi per la Bellotta è sicuramente una giornata speciale perché è entrato il primo trattore a metano. Ed è per noi un pezzo di un coronamento di un sogno perché ci auguriamo che questo sia solo il primo passo per raggiungere l'ultimo step verso l'indipendenza totale dai combustibili di origine fossile. Il trattore a metano è in grado di raccogliere il raccolto e scarti vegetali che vengono immessi nel biodigestore. Il biodigestore produce biogas, biogas che alla fine può essere trasformato o può essere utilizzato per tutte le attività energetiche dell'azienda agricola. Il biogas è il prodotto di un processo biologico naturale che avviene a carico della sostanza organica in assenza di aria. L'agricoltura italiana ha capito che la digestione anaerobica può avere un grande ruolo nel futuro del paese perché con la digestione anaerobica l'azienda agricola mette in atto tutta una serie di azioni di innovazione tali per cui è capace di ridurre le proprie emissioni e allo stesso tempo contribuire alla produzione di una fonte rinnovabile. E alla fine tutto rimane in azienda. Io sono sempre stato convinto dell'importanza della produzione di energie da fonti rinnovabili e sono sempre stato convinto che l'agricoltura potesse avere da questo punto vista un ruolo molto importante. Noi produciamo più di 8 milioni e mezzo di kilowatt da fonti rinnovabili. Oggi la sfida è un futuro che vede l'agricoltura sempre più innovativa, sempre più digitale sempre più vicino a una sua stabilità ambientale. L'aver realizzato il primo trattore a metano nel mondo mi rende molto orgoglioso perché diventa un attore di questo disegno più generale. Per il nostro futuro ci auguriamo un parco trattori grazie a New Holland tutto fatto di trattori alimentati a metano.